Pavarotti, Ron Howard decide di realizzare questo documentario così, penso emozionante. Cosa l'ha fatto dire in sì? Beh, Ron Howard, no, l'idea di fare un grande tributo a Luciano a dieci anni è una scomparsa, perché abbiamo iniziato due anni fa questo grande percorso e avere avuto la fortuna che un grandissimo regista e non solo una grandissima persona, perché Ron Howard ha l'educazione e la gentilezza proprio di animo che rispecchia molto quello che era Luciano ed è riuscito proprio a farne un racconto cercando proprio di capire anche l'anima di Luciano, non solo la parte artistica, il risultato secondo me è greggio. Lei ha preso parte nella decisione, nella scelta? No, no, ha un grande regista, ovviamente si lascia tutto in mano, la decisione è stata quella di dargli in mano tutto l'archivio e lui ha fatto la selezione secondo me migliore. Infine, vorrei chiedere qual è il lato più grande di un'organizzazione? Beh, a livello pubblico secondo me è il fatto che l'opera debba andare a tutti e che le nuove generazioni debbano essere aiutate. A livello personale, guardare sempre la vita con un atteggiamento positivo. Grazie.